Dall'acquisizione dell'area al recupero delle risorse, alla progettazione e all'affidamento dei lavori fino all'apertura del cantiere. Un lungo lavoro portato avanti in questi quattro anni che oggi muove l'ultimo passo. L'ex scalomerci ha affermato il sindaco di Ragusa, Pepe Cassì, uno spazio da tempo inutilizzato e abbandonato di ben 15.000 m2 al centro della città, accoglierà un nuovo parco e un nuovo pollo della mobilità. In quest'area sorgerà infatti la nuova, moderna stazione dei bus, che connessa alla stazione ferroviaria e alla futura metroferrovia darà a ragusani e turisti la possibilità di muoversi in maniera intelligente, passando da un mezzo all'altro o di spostarsi comodamente a piedi o con mezzi sostenibili, trovandosi già in centro. Rigenerare lo scalomerci, afferma ancora Cassì, vuol dire utilizzare un vuoto urbano per installare servizi e ricucire così aree vicine tra loro, ma finora slegate con via Carducci, zona Sacra Famiglia, via Risorgimento, piazza Libertà, piazza del Popolo e la stazione ferroviaria. Un progetto che quindi prevede, oltre a interventi di riqualificazione della stazione di Ragusa e di costruzione della fermata con la Ianni, anche la realizzazione della nuova stazione di Cisternazzi a servizio della zona di espansione e del nuovo polo ospedaliero della città e la riqualificazione della stazione di Ibla, un'opera che attraversa una serie di fermate stazioni consentirà alla città di Ragusa di dotarsi di un servizio ferroviario metropolitano ad aggiudicarsi i lavori un'impresa di Roma che ha presentato un ribasso del 27% sull'importo a base di gara di quasi 4 milioni di euro. Tranne per un tratto, ha evidenzato ancora il sindaco Cassì, che è stato preservato per consentire la memoria storica di questo luogo, nel corso di quest'estate sono stati completati i lavori di rimozione dei binari dell'area dell'ex Scalomerci adesso si sta pensando alla fase successiva con l'avvio delle opere di realizzazione della nuova strada di accesso da via Archimede all'altezza della parrocchia Sacra Famiglia della nuova stazione dei bus di tutti i servizi e gli spazi anche commerciali ad essa connessi di scale e ascensori di collegamento con via Scalomerci.